Benvenuti all'ISOP Italian Series of Poker 2015, siamo al Casino Perla di Nova Goriza e vi ricordo gli appuntamenti di oggi. Alle 14 il tavolo finale del campionato italiano main, tavolo finale che si potrà seguire sul sito www.pokerfatto.org. Alle 14 e 30 i 15 left del campionato italiano pro, mentre alle 17 lo special events verso Las Vegas. Siamo al tavolo finale del campionato italiano main, andiamo a conoscere i giocatori. Domenico Postiglione 593. Laszlo Bijegni, 277. Canistradario 694.000. Bravin David 1.212.000. David Urban 1.1.000.000. Tomasi Giovanni 850.000. Stefano Marinsuric per ora 277.000. Grazie. 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 Grazie a tutti